Che personaggi siete, che fate nella vita, nella finzione del film? Siamo due fratelli, siamo i figli di Ninetto Davoli che è un boss della mia vita capitolina e soltanto che io sono il figlio legittimo e lui è il figlio illegittimo perché è nato da un'attresca precedente e nel film però dobbiamo collaborare per questo colpo però in realtà poi le caratteristiche sono che lui è un vero uomo d'azione che ha avuto un problema, un certo punto uno shock che gli ha creato una bipolarità per cui è un po' da una parte boy scout e da una parte cattivissimo mentre il mio personaggio invece è uno che vorrebbe tanto essere un grande boss un grande malapitoso però in realtà è un cialtrone Avere accettato un film così, ma parlo proprio ecuisticamente per quello che mi riguarda è una cosa un po' fuori dalle righe e che Ninetto deve anche fare, la faccia me la permette e uscire un po' fuori dalle righe ma non è come uno può pensare il film di Natale, questi cinepanettoni no, io ho preso a braccia aperte un film così perché comunque è commedia è una commedia quello che oggi in Italia non c'è e qui su questo film c'è la commedia dove ci si diverte e ci si racconta delle storie divertendoci Io sono Vanni e sono praticamente il suo sottoposto in questa cucina mi hanno insegnato che sono un sous chef si scrive Sushi, sono un sushi e lei è il mio capo e io come in Ratatouille, che questa è la citazione anche del baffetto perché sono un topolino che sono in questa cucina e sono molto pavido, poco coraggioso, molto intimorito e sono innamoratissimo di lei perché sì perché l'amo in tutti i modi e quindi sono convinto che facendo questo colpo possa riuscire a entrare nelle sue grazie Io invece sono Anita, sono il capo chef di questo ristorante di Londra mio papà è Nino Frassica, lui è il mio sottoposto e noi faremo questo colpaccio con tutta la banda per salvare il ristorante da problemi economici e intanto si sviluppa questa non storia d'amore con Vanni Che lei è proprio nomica Io faccio il padre di Leonora perché praticamente sono stato scelto all'ultimo momento perché Leonora è questa bella ragazza dobbiamo scegliere un padre che sia altrettanto bello e allora guardando nell'annuario degli attori eravamo io, Gabriel Garco, Raul Bova, i tre belli italiani loro sono giovani per poter fare il ruolo del padre di Leonora e rimaneva io mi hanno chiamato, io ho accettato perché è un bel ruolo il film è divertente, si ride ci sono una serie di comprimari tutti comici e praticamente il film è venuto ancora non è finito ma le scene che abbiamo fatto sono tutte molto divertenti allora noi purtroppo siamo coppia ma soprattutto nella vita quindi purtroppo siamo coppia anche nella vita purtroppo ci conosciamo da 14 anni e purtroppo siamo insieme da 14 anni quindi questo è il nostro dramma è la mia croce soprattutto è molto triste questa cosa infatti proprio per causa di questa tristezza stiamo cercando di fare dei film comici per ovviare a questo dramma della mia vita esattamente siamo una vecchia banda che ci rincontra in occasione di questo furto di cani si può dire, furto di cani è ovvio che è l'occasione del film di rincontrarsi e di partecipare a questo furto a questa operazione che ci impegna tantissimo il mio personaggio è un componente di questa banda che si adopererà per fare questo rapimento di cani il capo banda londinese che appunto è Ubaroni, Ninofrassica nel momento in cui decidono di delinquere pensa di dover metter su per riuscire il colpo la vecchia banda come regista e come cinefilo ovviamente Londra, Bacchi Campalas, La Regina le commedie tante tu hai avuto qualche modello qualcosa che ti ha colpito in questo film? Beh, in questa direzione no, sì, sicuramente Black Edwards, La Pantera Rosa insomma, tutto un mondo cinema poi, meno male, la divinità unica possibile per ogni cineasta che fa commedia cineasta, vabbè comunque per ogni personaggio che fa commedia non può che essere Billy Wilder o comunque anche i nostri grandi, i monicelli ma poi non è che bisogna riferirsi molto perché magari ti rimane negli occhi una scazzottata di Bruno Corbucci o come in quel Inside Out che c'è un jingle che ti rimane in testa anche se è quello di caramelli di assorbenti quindi non puoi mai sapere di che cosa è fatta la tua cultura e in qualche maniera penso di stare facendo un film molto onesto molto onesto nella sua scopertura e non vedo l'ora che vediate perché non so se me la canto o me la suono se è bello speriamo sia bello in pratica insomma sono gli elementi della commedia l'italiana, la banda di cialtroni magari geniali la banda negli onesti un po' la totò no siete? sì sì, un po' la banda negli onesti un po' i soldi ignoti e un pochino via col vento c'è un leggero sì sì infatti il finale del film è uguale domani è un altro giorno in inglese domani è il nostro giorno è il nostro giorno è il nostro giorno